Benvenuti! Oggi esploreremo l'hotel di Portaventura così se dovete venire al parco sapete dove venire a stare. Questo è molto bello, è uno dei sei hotel di Portaventura e oltretutto vi racconterò anche come si fa ad arrivare a Portaventura partendo da Barcellona. E partiamo proprio da questo punto. Da Barcellona ci sono in realtà più stazioni. Dalla stazione di Barcellona Sainz, che è abbastanza centrale vicino a Piazza di Spagna, c'è un treno che arriva direttamente alla stazione di Portaventura, che è la stazione principale da cui a piedi si arriva direttamente al parco. Sei sono gli hotel del parco, due sono più vicini alla stazione, gli altri sono un po' più lontani in questa zona. Ci si può arrivare a piedi anche se sono venti minuti di camminata, a tratti anche su strade non bellissime, senza camminamento, pedonale. Trovate tutto nel vlog principale sul canale di come ci siamo e abbiamo fatto ad arrivarci. Il consiglio è una volta che arrivate col treno o sentite prima l'hotel vi organizzate con un taxi perché purtroppo non hanno le navette per qualche motivo per arrivare agli hotel. Se no si cammina tranquillamente Google Maps e vi indica esattamente dove andare. Andate fino al parco, all'ingresso e poi da lì saltate nei parcheggi e venite verso gli hotel. È fattibile alla fine. Altrimenti c'è un pullman che da Barcellona arriva fino qua e dovrebbe in teoria fermare in tutti quanti gli hotel oltre che al parco. Vi lascio comunque tutti i dettagli se trovo tutto in descrizione così potete dare un'occhiata e informarvi meglio. E ovviamente come al solito i biglietti per il parco, per gli hotel o tutto insieme, il pacchetto come abbiamo fatto noi, potete trovarlo su First Ticket, azienda con cui collaboro e se deciderete di prendere i biglietti da First Ticket, supporterete anche in parte il mio lavoro qua nel mondo dei parchi. In più potete fare il pacchettino di hotel più parco per cui. E trovate ovviamente gli hotel e parchi non solo qua della Spagna ma anche in giro per il mondo e l'Italia. Tornando a noi, questo è l'hotel, arrivi e per prima cosa fai il check-in qua sotto alle macchinette o di persona, puoi lasciare i bagagli custoditi qua nell'hotel e andare al parco. Alla sera, dalle tre in poi, generalmente, hai la possibilità di avere la stanza. Il mio obiettivo era provare a capire se effettivamente è ben tematizzato e mi sento una specie di cowboy americano delle foreste del nord, che è un po' il tema di questo hotel. Tra la parte principale della camera, un'ottima poltrona. Il mio amico Cristian che dormiva mentre facevo il video. Un'ottima doccia spaziosa. Beh, direi che nell'insieme la stanza è più che approvata. Ci hanno anche lasciato due acque e quella in particolare è la stanza premium. Aveva un buon prezzo sul first ticket. Dopodiché si arriva ai corridoi e anche qua mi son chiesto, è possibile uno stand-off al cowboy? Questo è la hall dell'hotel che è molto bella e tutto questo hotel è tematizzato in stile Klondike, Sequoia National Park, ricerca dell'oro del 1800, natura americana fondamentalmente. Ricorda anche i cowboy è comunque pieno di gente che sembra cowboy, ma quello dei cowboy è un altro hotel. Bella, spaziosa e sicuramente d'impatto. Guardate questo lampadario che bello nell'ingresso. La mascotte del parco è Picchierello, se non si fosse capito. Nel nostro caso la colazione è compresa, bellissima, gigantesca. Unica cosa c'è una finestra di 40 minuti per far colazione. Se volete con gli hotel avete anche il meal plan completo che vi dà accesso a pranzo e cena sia qua che nel parco, volendo, in alcuni dei ristoranti potete mangiare l'aver già avendo già pagato in precedenza, ecco. Da qua si vede l'esterno, ma ora noi ce ne torniamo alla hall e usciamo per di là. Anche perché come per ogni hotel che si rispetti deve avere una piscina e un bel giardino. Andiamo a vedere se ci sono. Vabbè ma che vibe questa roba qua. Tipo salottino di case in montagna americana. Qua c'è il saloon bar che al momento è chiuso, ma noi ce ne usciamo per di qua. Oh guardate chi c'è. Salve! Che coincidenza! No. Ma non ci credo, non ci siamo neanche organizzati. Ma va. Comunque è bello questo hotel. Anche io l'ho detto, molto molto bello. Ah quindi è lo stesso video? Sì purtroppo sì. Vabbè allora smetto dai. Ed eccoci alla prima piscina. Vediamo quanti passi è questa piscina. Ora ve lo dico. 115 passi di Efrem. È una nuova unità di misura. Ho anche perso il conto a un certo punto ma... C'è una mini piscina per bambini. Sono belle e hanno l'acqua col sale. Non cloro in teoria. Qua ci sono i bungalow. Belli comunque, sono ben tematizzati. Ci sono anche gli effetti sonori della cascata e gli uccellini. Tutta la tematizzazione di questo hotel è veramente bellissima. Come anche del parco. Il parco ha questo problema che vi racconterò poi nel video principale, iscrivetevi per non perdervelo, di essere tanto fumo e un po' meno arrosto. Ma vi spiegherò meglio nel video completo. E dentro sono così. Eh ma sono realistici. Non sono, come dire, tematizzati un po' finti. E' tutto proprio realistico. E' lì questo sembra di essere in un parco nazionale. Che figo. Cos'è? Un rinoceronte? No, una mucca. Un rinoceronte. È vero. No, no, sei matto. Matto. Ok. Ma come puoi andare in questi posti? C'era una tizia laggiù. Dove? È passata di là. Non ci ha visto. Per fortuna. Ma se per me siamo illegali. Io volevo toccare la mucca. È proprio... Scappo. Ciao. Poi in realtà ci sono, se proseguiamo di qua, gli altri hotel. Sono tutti molto belli. La tematizzazione è incredibile. Tra cui il più costoso di tutti è tutta la parte western. Poi c'è un hotel all'interno del parco, uno all'esterno, ma dall'altro lato. Insomma, nell'insieme ce ne sono veramente parecchi. C'è tanta scelta. I prezzi sono anche accettabili alla fine dei conti. Mi sta mangiando le zanzare. Fatemi sapere che ne pensate di questo mini video extra. Dedicato agli hotel. Ogni tanto mi piacerebbe portarvene. Ho un po' di idee. Vi racconterò presto. E fatemi sapere se volete video su altri hotel. Gardaland piuttosto che... non lo so. Se avete interessi fatemi sapere. E tra l'altro qua c'è il mio merch. Se per caso vi interessa trovate il sito, insomma, con tutte le cose carine. Noi ci rivediamo molto presto con nuove avventure sempre qua su Ifram Adventure. Grazie a tutti.